Trovare il giusto equilibrio tra apertura all'esterno e riscoperta del territorio. E questa è la formula di un'informazione di qualità per Don Ivan Maffeis, direttore dell'Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana e presidente del CDA di TV2000, che è proprio dei Vescovi italiani e strumento di comunicazione per eccellenza. In occasione della sua visita alla Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, ospite dell'Arcivescovo Riccardo Fontana, sono stati confermati e rafforzati i legami con il polo unico diocesano delle comunicazioni sociali e con l'emittente TSD. Nel tempo in cui la rete ci ha squadernato davanti il mondo, nel tempo della globalizzazione, abbiamo tutti una grande fama del territorio. Un territorio che non può diventare localismo, non può diventare chiusura, non può diventare le varie forme di leghismo che conosciamo e che tante volte ci portiamo anche dentro, che diventano pregiudizi nei confronti dell'altro. Ma quando noi sappiamo tenere insieme il pendolo, i due movimenti del pendolo, da una parte una grande apertura, e qui TV2000 sicuramente può aiutare, ma dall'altra un radicamento sul territorio. E le loro esperienze come Teresa Domenico diventano preziose, proprio per non parlare a una folla anonima, per non raccontare delle storie semplicemente emblematiche, ma per dar voce a quello che viviamo, alla nostra gente, alla nostra terra, ai valori che la innervano. Nell'era dei new media e di un'informazione troppo spesso urlata per sovrastare le altre voci, diventano basilari la formazione, la sensibilità e l'esperienza, come indicato da Papa Francesco. Credo che siamo un po' tutti stanchi di una comunicazione che usa le persone, che da una folla anonima sa tirare fuori qualche storia, sa bruciarla e poi ributtarla proprio ai margini. Proprio Papa Francesco, mentre spinge la Chiesa ad uscire, quindi ad incontrare, a parlare i linguaggi dell'uomo, ad esserci nella piazza, a fare della comunicazione un ponte, come lui ama ripetere, proprio per incontrare l'altro e per lasciarsi incontrare dall'altro, il Papa ci dice anche quali sono le condizioni, perché questa comunicazione sia efficace. Rivolgendosi ai comunicatori raccomanda lo studio, raccomanda la sensibilità, raccomanda l'esperienza.